Pervizio, 16 ottobre, questo è Arad Kacikian, sono Arad Kacikian, e questa è la nostra gara internazionale su terra. Questa è Marisa, ciao Marisa, come ti fai? Questa è il parking lot, questo è il nostro parcheggio. Questa è il signor della Cotterosa. Il sole è in leggera salita, per questo 14esimo trofeo tripla fogoda. Bisogna cominciare subito a impegnarsi. Qui fin dall'inizio si capisce che la gara si fa proprio aiutando il più possibile gli animali in questo falso piano in partenza. Qui guardiamo la partenza. Questa è la partenza dei corridori con un cane. E questa è la quinta categoria. We see the start of Mr. Alessio Del Favro. Andrea, how is it going? Andrea, Alessio, come stai? Bene, bene, grandi, siamo pronti. You're doing good? Siamo pronti, I'm ready. You're ready? You're ready? You're ready. Here's the watch here. Now, 30 secondi for the start of Mr. Alessio Del Favro. The watch here is the area, the race area. 15 seconds to the start of Alessio Del Favro. 5, 4, 3, 2, 1, ok, here we go. Ok, good luck, Alessio. Tavisio Fusine, 16 ottobre, 16 ottobre, 2011, 2011. Come stai, sei in forma? Sempre da in forma. How are you doing good? Come si chiama il toccano, what's the name of your dog? Nanook. Ok, very good. Ciao Nanook, have a good run. This is the official clock here, the official watch. And, goodbye from Tardisio Fusine, Italy. International Dryland Race, 16 ottobre, 2011. 142, Sofì Venturini, concluderà le partenze di questo quattro.